Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale youtube di JustNerd.it Io sono Roberto e oggi vi spiego come si gioca a Procioni Puzzoni Un gioco per 2-4 persone dagli 8 anni in su edito da Supernova Edizioni Dopo aver mischiato il mazzo Date 3 carte al primo giocatore 4 al secondo 5 al terzo E 6 al quarto giocatore Poi mettete al centro del tavolo il mazzo a disposizione di tutti Il dado e le 6 pedine Il gioco è molto semplice Lanciate il dado e ottenete la pedina corrispondente Se volete potete ritirare il dado o fermarvi e risolvere la pedina Decido di ritirare il dado Ottengo un'altra pedina Vado avanti a lanciare il dado In questo caso la pedina che dovrei prendere l'ho già presa quindi ho sballato Posso quindi giocare o delle carte come Scrocchia Cola e Nana che agiscono sul tiro del dado Oppure se non le ho ho sballato e di conseguenza come premio di consolazione posso pescare una carta dal mazzo Se si riescono a prendere tutte e 6 le pedine nel proprio turno si ha un bonus E in questo bonus posso ottenere il dado 3 volte per riuscire a prendere al massimo 3 di queste pedine Quando ho deciso che mi fermo dal lancio dei dadi devo risolvere le pedine in qualsiasi ordine Vediamo cosa fanno le pedine Questa mi permette di pescare due carte dal mazzo degli scarti Questa mi permette di imboscare cioè di prendere due delle mie carte e mettere a faccia in giù in disparte fino alla fine della partita Sono le carte che poi mi permetteranno di fare punti vittoria Questa pedina mi permette di scegliere tra imboscare una carta o pescare una carta Questo è un jolly quindi una volta che l'ho preso posso scegliere di prendere un'altra pedina di quelle che non ho già preso Questa mi permette semplicemente di rubare una carta dalle carte in mano di un mio avversario Mentre questa mi permette di rivelare una carta dal mazzo La si mostra agli altri giocatori Se ne hanno una uguale possono imboscarla per ogni carta imboscata io ne pesco altrettante Questa mi rimane nella mia mano Attenzione ci sono delle carte che permettono di agire sulle pedine Queste carte vanno utilizzate prima della fase di risoluzione delle pedine Il gioco finisce istantaneamente quando viene pescata l'ultima carta del mazzo Il giocatore finisce il proprio turno e poi si passa al conteggio dei punti vittoria Le carte hanno un nome in questo caso pizza pazza Una quantità qua di fianco cioè la ricorrenza della carta nel mazzo Pizza pazza è una carta presente nove volte nel mazzo Mentre qua a sinistra ci sono i punteggi Quella sotto invece è l'azione che si può fare 6-2-1 vuol dire che se io ho imboscato il maggior numero di carte pizza pazza rispetto ai miei avversari Ottengo sei punti il secondo che ha il maggior numero di carte pizza pazza ottene due punti Quando vi ha imboscata Alla fine del conteggio dei punti vittoria ovviamente chi ne ha di più è il vincitore In caso di pareggio chi ha imboscato più carte è il vincitore Ok con questo è tutto il gioco è molto semplice Naturalmente se avete bisogno di qualche delucidazione Non fatevi problemi a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto Noi ci vediamo alla prossima puntata qua sul canale youtube di justnerd.it Ciao ciao